Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Persiste il campo di alta pressione sull'Italia con prevalenza di tempo stabile e soleggiato anche se in Liguria potranno esserci delle nubi marittime anche piuttosto compatte, soprattutto tra mattina e primo pomeriggio tra le province di Savona e di Genova. Ma partiamo dal dettaglio della provincia di Imperia dove avremo una giornata con cieli poco o parzialmente nuvolosi salvo per qualche nuvola un po' più consistente al primo mattino nelle zone costiere. Per quanto riguarda la provincia di Savona, come dicevamo un poc'anzi, maggior persistenza delle nubi marittime soprattutto sulle aree costiere mentre nell'entroterra avremo una giornata pressoché soleggiata. Per quanto riguarda Genova e Interland, anche qui possibilità di nubi masse marittime anche piuttosto persistenti nella prima parte di giornata, maggiori aperture invece sui settori montuosi. Per quanto riguarda il Tiguglio avremo anche qui una situazione abbastanza simile. Qualche nuvola nella prima parte di giornata ma nel complesso poi avremo condizioni più soleggiate dal pomeriggio. Sulla provincia di La Spezia cieli generalmente poco o parzialmente nuvolosi per tutta la giornata. Nella giornata di giovedì persiste ancora il campo di alta pressione, anche se sulla Liguria insistono delle nubi basse anche compatte nella prima parte di giornata che potranno portare qualche goccia di pioggia tra le province di Savona e di Genova, temperature pressoché stazionarie. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo.